Nei commenti del video che ho pubblicato ieri, in realtà tutti i video sono stati un pochino commentati in questo modo, mi avete consigliato più volte di parlare di Marcello. E ovviamente ragazzi mi sono preso il tempo che mi sono preso per raccogliere un po' di informazioni su Marcello, cercare un pochino di chiarire la situazione, darvi una spiegazione un pochino più ampia, cercare in tutti i modi comunque di essere meno sintetico possibile per cercare proprio di offrire una visione complessiva dell'affare. Partiamo da un presupposto molto semplice, ormai sono due o tre stagioni di fila che il nome di Marcello viene associato comunque alla Juventus sempre e comunque. Sembra un mantra ormai, ogni sessione di calciomercato spunta fuori comunque il nome di Marcello ed è una cosa che per certi versi ovviamente fa piacere perché essere accostati a un giocatore del genere che comunque ha scritto pagine importanti degli ultimi anni è ottimo, ma dall'altra parte comunque provoca anche un senso di stanchezza perché non si sa mai se questo affare possa andare in porto o no. Parto da un presupposto molto semplice, ve l'avevo già detto qualche tempo fa, Marcello a Real Madrid ormai ha chiuso, ha chiuso un ciclo, ha chiuso il modo di essere comunque quello che era, ha chiuso tutto semplicemente perché il Madrid non ha nessuna intenzione di mantenerlo. È stato preso un mindì che quest'anno ha giocato molte partite, Marcello quest'anno ha avuto l'opportunità di giocare veramente poco rispetto agli anni scorsi, pensate che ha giocato solamente 19 volte, quindi vanta una ventina di presenze, 19 presenze, 20 presenze di stagione e nonostante questo Marcello comunque ha fornito 6 assist e fatto anche un gol, quindi stiamo parlando anche 2, se non sbaglio ce n'era 1 in Coppa del Rey. Comunque, a prescindere da tutto questo, parliamo di un giocatore molto 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 stimato da Cristiano Ronaldo e molto stimato dai dirigenti della Juventus. Era previsto un incontro fra la Juve e il Real Madrid, poi purtroppo ragazzi non si è fatto più nulla perché avete visto cosa è successo, l'esplosione di questo virus purtroppo ha costretto tutti a riunirsi in quarantena, i due club stanno lavorando in smart working, cioè stanno lavorando da casa, dalle proprie sedi, appunto meglio ognuno dalle proprie case, per cercare di organizzare un incontro quando tutto questo sarà finito, quando le stagioni saranno finite. Parto da un punto molto semplice, molti dicono che Marcello sia vecchio, molti dicono che Marcello sia diciamo ormai decrepito, non la penso in questo modo, semplicemente perché alla fine Marcello ha due anni in più d'Alexandro, non è che Alexandro ha 20 anni e Marcello ne ha 30, l'Alexandro ha 29 anni e Marcello ne ha 31, il che ovviamente non è che lo getta tra i papabili favoriti dei tifosi, sicuramente i tifosi preferirebbero qualcosa di più giovane, qualcuno di più giovane, ma è anche da dire una cosa molto semplice. Alexandro è un terzino che negli anni, seppur sia peggiorato, ha sempre garantito un certo tipo di affidabilità, cioè è un terzino che sono d'accordo con voi, il meglio di sé l'ha fatto vedere sicuramente nelle prime due stagioni, con in panchina Allegri, poi è calato e ancora quest'anno non è che abbia fatto vedere molte cose. Però ad Alexandro possiamo dire tutto, possiamo dire che non è un terzino assolutamente bravo in fase offensiva, possiamo dire che a volte è incostante, possiamo dire che a volte dimentica le cose, però non possiamo dirgli che non sia comunque affidabile, nel senso è un terzino che durante tutti gli anni che è stata la Juventus non ha mai commesso errori proprio enormi che ti hanno fatto dire cavolo ma come fa a fare il titolare alla Juventus. Quindi di conseguenza ragazzi è normale che se io dovessi andare a sostituirlo, lo andrei a sostituire con un nome importante, che non vuol dire un nome importante a livello di prezzo, ma vuol dire un nome che sia in grado di sostenere innanzitutto ragazzi il peso della maglia della Juve. Perché ci crediate o no questa maglia pesa ragazzi, non tutti riescono a sostenere il peso di una maglia così importante, non tutti riescono a non avere problemi comunque all'interno della situazione Juventus perché è un club che comunque è molto esigente con i propri giocatori, è un club che chiede il 100% ai propri giocatori, quindi è normale che da questo punto di vista ragazzi bisogna rendersi conto che non tutti possono vestire la maglia della Juve. Marcelo è abituato alle pressioni, è un giocatore che viene da 10 anni di Real, è un giocatore che comunque sa bene cosa vuol dire giocare determinate gare ed è un giocatore che secondo me non è del tutto finito. Sono d'accordo con voi quando dite Marcelo è un po' in avanti con gli anni e sono perfettamente d'accordo con voi, ma non sono d'accordo con voi quando dite Marcelo è finito, perché per me Marcelo non è finito, è un giocatore sicuramente ottimo, di buona levatura, che sicuramente non sarà più ai livelli del Marcelo che fu, ma rimane comunque un buon nome dal punto di vista tecnico per sostituire Alexandro, che non è che stia facendo tutta sta grandissima stagione. Però, e seguite il mio ragionamento, se io Alexandro lo devo vendere per prendere Emerson Palmieri, io preferisco a questo punto andare a spendere qualcosina di più e prendere a livello di stipendi ovviamente Marcelo. Qui casca l'asino, nel senso che dobbiamo parlare un po' di soldi, perché sono sicuro che quelli che stanno guardando il video mi diranno Mette hai parlato, hai detto chi è Marcelo, hai detto cosa ne pensi tu, ma ancora non ci hai parlato di soldi, come mai? Perché volevo arrivarci con calma. La prima cosa che voglio dirvi è che la valutazione del cartellino di Marcelo non è essenzialmente molto alta, semplicemente perché non può chiedere Real Madrid cifre come 40-50 milioni. La base d'asta è 20 milioni. Quindi Marcelo per 20-25 milioni, per come potrebbe lasciare Real Madrid, far fare un incasso a Real Madrid consistente, comunque, e a raggiungere appunto la Juventus o altre squadre. Il problema più che altro è l'ingaggio. Cioè, per come la vedo, l'ingaggio di Marcelo è veramente troppo alto per le casse della Juve. Perché Marcelo oggi a Real guadagna 15 milioni di euro a stagione. Che sono veramente tanti, ragazzi. Sono veramente molti. Alla Juventus, qualora dovessero veramente, diciamo, accettare di prendere Marcelo, accettare anche lo stipendio di Marcelo, Marcelo riverrebbe praticamente il secondo giocatore più pagato in Rosa dopo i 30 milioni dati a Cristiano Ronaldo. È ovvio che se arriva Marcelo, Marcelo da parte sua, bisogna anche che capisca che non vale più 15 milioni di euro all'anno. Lo dico con tutta l'onestà del mondo. Non mi va di girare attorno alle cose solo perché si chiama Marcelo. Io dico le cose in faccia a prescindere dal giocatore con cui vado a parlare e di cui vado a parlare. 15 milioni di euro a stagione, Marcelo non li vale più. Li valeva 3-4 anni fa, adesso non li vale più. Semplicemente perché è comunque di reduce da delle stagioni non ottimali. secondo me si può rialzare e può ancora fare 3-4 stagioni di gran livello, ma se Marcelo viene da me e mi dice che voglio 15 milioni di euro a stagione, io prendo Marcelo e lo metto fuori dalla porta. Perché non esiste, ragazzi, che possa prendere 15 milioni alla Juve. Se glieli dà la Juve per me è un errore. Semplicemente perché per quanto io possa stimarlo, per quanto io credo che sia ancora oggi fra i primi tre terzini sinistri più forti del mondo, devo anche constatare che stiamo parlando di un uomo che ha superato i 30 anni, devo anche constatare che stiamo parlando di un uomo che un paio di stagioni ormai non dà più quello che deve dare. Quindi se deve arrivare la Juventus mi aspetto che Marcelo si riduca l'ingaggio in maniera consistente. Che non vuol dire guadagnare 3 milioni di euro a stagione, ma vuol dire guadagnarne 7-8 e sto già esagerando perché comunque, ragazzi, il più pagato è Ronaldo, abbiamo 10 milioni di euro che verranno dati a Dybala per il rinnovo, io non darei 10 milioni di euro a Marcelo. Purtroppo, ragazzi, è un limite che purtroppo ho visto. Non so se sia giusto dargli 10 milioni di euro a stagione, 15 milioni di euro a stagione nonostante il rendimento sia in calo. Poi, dal punto di vista tecnico, niente contro Marcelo che rimane, secondo me, un fuoriclasse assoluto, che in coppia con Cristiano Ronaldo potrebbe probabilmente fare sfracelli perché comunque i due sono strepitosi insieme, addirittura sono grandi amici fuori dal campo, quindi anche nella vita comune, nella vita di tutti i giorni. È normale che questo aiuta il rapporto in campo. Va bene prenderlo qualcasomai dovessi cedere a Alexandro, ma comunque dobbiamo essere sinceri e dobbiamo dire se il presupposto è prendere Marcelo ha una cifra accettabile, uno stipendio accettabile è un conto. Gli fai fare 3-4 stagioni che le può fare, ragazzi, perché le può fare, non è del crepito assolutamente, quello è proprio una cosa completamente diversa. Quella è una cosa a sé, è una cosa che si può valutare e comunque puoi anche essere d'accordo o non puoi essere d'accordo. Un conto è quello. Un conto è dire spendo 40 milioni di euro per Marcello, gli do uno stipendio da 20 milioni di euro al stagione. No. 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 Perché non li vale? Perché non è più il giocatore che fu? Sicuramente è ai livelli di Alexandro se non superiore nonostante il calo, ma comunque 15 milioni di euro a un giocatore di quasi 32 anni secondo me è troppo. Onesto parere, parere personale, ovviamente non prendetevela per chi dirà Matt, ma tu non capisci, dobbiamo prendere Marcello. Marcello si prende, se comunque Marcello viene anche un po' incontro alla società, perché comunque se Marcello viene e dice no, io vengo solamente se mi date 15 milioni di euro, per come la vedo io puoi stare lì. e andiamo su altri nomi che possono essere altri nomi che costano la metà di Marcello, però che sono più giovani di Marcello. Tutto qua ragazzi, io devo essere sincero e devo essere completamente trasparente con voi, non sono uno di quelli che vi dice ciò che vorreste sentirvi dire semplicemente perché io cerco di dirvi la verità, perché altrimenti vi tratterei come se foste, sai, io credo che voi siate intelligenti, non credo che siate degli scemi, quindi vi devo comunque dire la verità. se pensate di prendere Marcello soddisfando le richieste economiche di Marcello secondo me è uno sbaglio. Se pensate di prendere Marcello con Marcello che fa uno sforzo e si riduce l'ingaggio quello è un altro discorso. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi.